Noi intanto stiamo facendo a livello nazionale, proprio ieri c'è stato un incontro con il Sordio Sanitario Mantovano, degli incontri per cercare di aumentare anche i servizi e le risposte ovviamente da dare alla popolazione carceraria. Detto questo, quanto è venuta a Trieste è ingiustificabile, inaccettabile e intollerabile. Rivolte di questo tipo, la crearsi di situazioni pericolose, penso che sia qualcosa di inaccettabile. Una cosa è il giusto porsi il problema della situazione carceraria e cercare di risolverlo passo dopo passo, perché è una situazione che ci portiamo dentro penso da decenni, quindi purtroppo non è una notizia nuova. Altra cosa è favorire rivolte di questo tipo violente che vengono all'interno del carcere, questo è inaccettabile. Punto, non ci sono giustificazioni.